Innsbruck-Sredez sospeso sullo 0-1 in favore dello Sredez, squadra bulgara, per l'improvvisa pioggia, arbitrava Carletto Longhi che evidentemente non ha proprio potuto fare a meno di sospendere il confronto. Stiamo vedendo una selezione di azioni delle formazioni spagnole, Atletico di Madrid contro Werder Bremen, un incontro decisamente importante, vinto per 2-0 dall'Atletico di Madrid. Il gol al settimo minuto del secondo tempo come abbiamo visto ad opera di Uralde, il raddoppio, sempre ovviamente per l'Atletico Madrid, viene con un colpo di testa di Artece. E siamo ad Atletico Bilbao Magdeburgo, qui sempre spagnoli contro...